Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Super Mario Bros. Wonder. Ragazzi, nella scorsa puntata abbiamo completato al 100%, che cosa veramente fantastica, la foresta di magma scuro. Ok? Però adesso dobbiamo andare a affrontare Bowser. In qualche modo, sembra che... wow, sembra molto wow. Sembra che ci nasconda qualcosa di interessante e proviamo ad affrontarlo. Ovviamente saremo in compagnia di Mario, ok? Abbiamo switchato con Mario. E vediamo questo fantastico mondo. Questo è il castello dei fiori, con cui Bowser si è fuso. Uno spettacolo davvero mostruoso. Adesso vado... adesso doppio anche il piccolo millapiedi. Oh, sì? Vabbè, dai, il principe. Guarda un po' chi c'è qui. No, non riesco, ragazzi, a fare la voce maschile di Bowser. No! C'è l'audio! Ho fatto anche il balletto, raga, cioè... Altre sub, vi prego, dopo questa. Sarete entusiasti per l'enorme meraviglia che sto preparando. Dovrete aspettare ancora un po'. Per fare le cose bene ci vuole solo pazienza. Forse ho aggiunto io un solo pazienza, ma vabbè. Nel frattempo, che ne dite di godervi i numeri di apertura della mia... Armata? Tocca a voi, ballottoli Bill Missile. Oddio, che è una magia. Fatevi vedere quanto pericoloso può essere il mondo dello spettacolo. Allora. Temo che questa sarà la cosa più pericolosa che abbia incontrato finora. Ma dobbiamo affrontarla. Forza! Possiamo resistere a qualsiasi cosa. Bowser ha... Che Bowser è in serbo per noi. Sì. Fermiamo questa follia. Commitiva di pallottoli Bill Missile. Here we go! Yahoo! It's me! Mario! Ok, basta. Oh no, sono... Eccolo là! Ecco, ecco la prima sfiga! Ecco... Ecco la prima sfiga! Oh! Oh, damn! E questa roba... Oh, che cazzo è! Oh no! Posso prendere quel fiore! Oddio ragazzi, non ho neanche visto cosa c'era sotto i miei piedi, ma va bene? Ti prego resisti! Resisti più che puoi! Anche tu resisti più che puoi! Ho preso la malattia dei 10! Attenzione! Ma, ma madonna, se mi colpivi io veramente sveniva o male. No! Ok. Niente, ci può spaventare, vero ragazzi? Penso. Ok. Oh, oh, no, no, no! Non ero pronta a questo io! Non ero pronta neanche a questo io! No, sono morta. Eh, vabbè. Ma io cosa dovrei fare qui, scusami? Il tubo? Ma non si posso credere, ma sono così rincoglionita. Vabbè. Ma il terzo... Io non faccio danno però a loro, attenzione. No, no! Ok, no. Bisogna... Allora, questa è la pro player move. Cosa che io prima non ho fatto proprio. Ok. Uh, mamma mia! Madonna, che lungo che è questo! No! No, 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 no! Vi giuro che io la prenderò quella. Ti prego, ti prego, vai! Mamma mia! Ok. Pazzesco, ragazzi. E adesso? Oh cielo! Oh cielo! Oh mamma mia! Attenzione! Quante monete! Oh, 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 no! Che si dividono, no, che si dividono! No, che si dividono! Orca la boia! Pierossa volta, cascanazzo, papi, rossa cupa. Adesso come le prendo tutte quelle? Ole! Anche i fuochi! Attenzione! Ok. Ottimo! Oh Maria! Eh, va bene! Maria! È bello lunghetto questo. Abbastanza. Vediamo. Vai, 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 vai! Vai! Mamma mia! Mamma mia! No, ragazzi, dove sta finendo? Grazie, 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 grazie. Apri pochi d'artificio. Eccolo là! Come on, come on! No! No, niente. Se la farò prima del 2000 e mai? Mamma mia! Ok. Eccolo qui! Oh, l'abbiamo preso! Allora. Oh, 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 attenzione. Allora, quanto ne abbiamo prese? Ah, abbiamo preso tutto, ragazzi. Allora siamo alla fine, giusto? Perfetto. E una... È andata. È andata. Mua! Mi è piaciuta l'accoglienza del mio esercito. No, dai, non posso doppiare. Oggi ho doppiato abbastanza. Ed è solo l'inizio. Adesso arriva il numero principale. Vedrete, vi darà davvero una scossa. Basta con le presentazioni. Preparatevi a uno sconvolgente spettacolo di luci. Signore e signori, ecco a voi scosse e percosse ad alta tensione. Vediamo. Sono scosse e percosse ad alta tensione. Quel che l'è, insomma. Allora. Insomma, io penso che... Non penso che con questo finiamo tutto il gioco. Oh, sì. No, dai, non penso. Oh, ce l'ho. Sarà un po' complessa qua. Aia, aia. Anche io, però. Ah, sto livello mi sa che sarà un bel po' tosto. Ma, ma per... Come è possibile, scusami? Ah, posso lanciarlo ai compagni? Come... Oh, funziona. Madonna, ragazzi. Ma scherziamo? Come l'ho preso? No. Aia. No. Gatto. Come cazzo farò? Oh, attenzione. Ok. Maria, ragazzi. Non ci posso credere. Le ho matto questi con... Ah, sì, dovrei. C'è qua da andare veramente cauti. Ok, qua c'è qualcosa. Oh, madonna, madonna. Eh, raga. Attenzione. No. Che peccato. Ma dai, ho preso le tre stelle e più anche il coso. Vabbè. OP. Però non posso saltare troppo in alto, vedo. Madonna, ma che figata è questa cosa. No. Aspetta, 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 aspetta. Ma che è sto a livello? Fantastico. Oh, benissimo. Non me l'aspettavo di prendere tutto. Va bene, lasciamo lì passare questi. Ah, è vero, sti qua non muoiono. Mamma mia. Devo fare il massimo. Va bene. Va bene. Perfetto. Non chiedevo di meglio. Raga, pensavo di non farcela con questo livello. Ho detto, cazzo, ma... Oh, è difficile? Però, vabbè. Dopo capisci il meccanismo e via. Comunque, sì, carina questa cosa, ma... Avrei fatto di meglio io, onestamente. Avrei progettato di meglio. Che ne direste di una pausa? Muah. Schertavo. Nei miei spettacoli... Nei miei spettacoli... Speccatoli, stavo per dire. Nei miei spettacoli non sono previsti intervalli. E non pensate di andarvene via di nascosto. Non vorrete certo mancare al mio prossimo numero. Di sicuro i miei artisti faranno di tutto per non mancare voi. Signori, signori, ecco a voi i fantastici Ballotoli Bill a ricerca. Un'altra ballotoli. Però a ricerca sono questi. Cosa vuol dire? Non lo so. Vamos a ver. All right! Eh, io no, non lo so. Voglio proprio vedere sti Ballotoli a sorpresa. Allora. Ah, praticamente non ti lasciano in pace. Ma c'è un modo per farli fuori? No, non c'è un modo per farli fuori. Ah no, sì, c'è. Eh, uno. Wow, vissà qui! Ok, sono entrata dentro un buco. Ottimo. Oh, ma guardatelo! No, vabbè. Aspetta. Oddio. Oh, ma il gosh. Vabbè, super elefante qua. No! E adesso qua... Pesa però lui. Eh, come scendo? E adesso come lo prendo? Ah... No, raga. Come lo prendo adesso quello? No, sto qua parte dritto. No, raga, mi sa che io mi ammazzo però qua. Cosa faccio? Come faccio a non prendere quella moneta? Ok. Cattarolina. Posso dire che sono un po' una rottura di scatole questi? Se c'è a dirlo? Ma quanti ne abbiamo presi di monete, scusatemi? Una? Mi sa che ne ho perso una, ragazzi. Eh, ma come non è facile. Oddio, qua sono più di uno, però. No, dai, cazzo. No, dai, ma che peccato. Oddio, raga, come l'ho presa. Ditemi che non ho avuto fortuna qua. No! No, ragazzi. Vabbè che sono arrivato a metà e va bene così. Ma Dio Cristo. No! Qua dolce speedrun. Ma c'è qualcosa lì giù? Sì. Ok. Infatti mi pareva un po' strano che non... Ok, secondo. Immaginavo che qua c'era il fiore. Meraviglia. Vediamo. Cosa mi fa fare, eh? Porca miseria. Oh, bello! Bellissimo! Ho il su che non casche. Vai che me lo prendo! Ma guarda che roba! Mitico! Così, insomma. Vai, 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 vai! Spacca, spacca tutto, spacca tutto! No, vabbè. Dai, 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 dai! Ok. Cioè, le mie mire, tipo. Oh! Sono stata bravissima! Penso che... Oh, mamma mia! E questo? Ok, tipo io mi sono persa per un secondo. No, dai! Che peccato! Vai, prendi il seme! Woohoo! Ero tutta fantastica. Attenzione che qua siamo alla fine. Ah no! Mi ha scammato il gioco, ragazzi. Io pensavo di essere arrivata alla fine. Tardo. Non mi avete preso, bastardi! Ma! Che bello! Se lo fate! Non mi hanno preso. Non ci sono riusciti. A dire il vero, un po' mi sorprende che siate arrivati fin qui. Sono sorpreso, ma anche contento! Potrete infatti gustarvi lo spettacolo più travolgente di tutti i tempi. Vi manderà letteralmente KO. Preparatevi al più incredibile spettacolo mai prodotto. Che abbia inizio il Gran Festival degli Sganassoni! Perché mi sembra una cosa veneta, scusate? Mi sembra una cosa abbastanza veneta. Gli Sganassoni! Beh, potrebbe essere un riferimento, chi lo sa. Ok. Andiamo a vedere questi Sganassoni. Gli Sganassoni. Ok. Ah, comunque l'ha messo di difficoltà a 4 stelle, però... Oh, fino a non certa. Oh, mamma mia! Forse questo merita... Oh, mamma mia! Ahia! Oh cielo! Aia! No, non ce la farò mai, secondo me. Prendere quel 10. No! No, che peccato. Col fatto che l'ho presa, me l'ha contata. Eh, va, andiamo avanti. Va va che andiamo avanti. E forse questa abilità mi conviene. Esattamente a questo punto. No, mi ha preso Maria. Mi ha preso, mi ha preso. Ok, vediamo. Stiamo attenti qua, possibilmente. Uh, oh Maria! Oh Maria! Nooo, ragazzi. Sono proprio nel culmine lì. Vai vai vai. Qua bisogna correre, qua bisogna correre! Qua bisogna correre, qua bisogna correre! Ok. facciamo scendere arca boia io per adesso come sono entrato in modo tattico la propria entrata in una maniera ragazzi micidiale allora vediamo un attimo qua la stella io elefante che non combina molto che succede va ok maria oh mamma mia 1 2 3 ole 2 3 1 2 1 2 e adesso madonna mi è venuto tipo un micro infarto ragazzi date vedere la piattaforma io sono un elefante non è che sono leggera come la piuma no no mamma mia che salvataggio no ragazzi no vabbè ma cos'è praticamente sono immortale a no ok è tipo bulso di culo forse no che peccato mamma mia 1 2 1 2 2 3 ok no mi beccano oh mamma mia oh mamma mia oh mamma mia oh mamma mia salta ti prego salvatemi sì 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 l'avete visto io mortissima lui tipo con le braccia aperte sì ha ok non so se c'era una stella dimmi che non abbiamo peccato abbiamo preso tutto ragazzi oh bestiale 1 2 yoohoo Mario Elefante ce l'ha fatta raggiungere la bandiera papà 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 oh siete sopravvissuti al gran festival degli sganassoni sorprendente non rallegratevi troppo Io che perdo l'italiano Quello era solo il numero di apertura Il travolgente ritmo dell'evento principale Scuoterà il mondo Ma che dico, l'universo Ha pure addirittura Nessuno potrà resistere, le teste si muoveranno I piedi batteranno, il pubblico rimarrà tramortito Signori, signori È finalmente giunto il momento della mia enorme meraviglia Preparatevi per il Numero di Bowser Si prega il gentile pubblico di accomodarsi presso il palco principale Adesso io proprio vedere Attenzione Il scontro Lo scontro finale Sono un po' curiosa Ah ah, bravi Ne avete fatta di strada Vabbè, d'orini avanti non scherzo più Ho un biglietto in prima fila Per il gran finale di Papalina E non sarete certo voi a rovinarmi lo spettacolo Ora vedrete quanto grande e pericoloso posso essere È l'ora della mia meraviglia Super Mega Extra Speciale Va subito così? Perché miseria? Ok Vabbè Un po' di errori di Aia Eh ma perché mi carica molto lento qua Oh Speriamo bene per questo Oh mamma mia Oddio, sti qua devo dividerli Preferisco Allora, vediamo un po' Oh cielo Ma mi toglie tutta la vita Ma potrei effettivamente sfruttare un punto dove prenderli tipo Dai che adesso ce la faremo Mi impegnerò fino in fondo Ecco qua Sono causato dentro il buco Ok Perfetto Perfetto Ok Ma che carino che sei Allora vediamo Ok Mamma mia ragazzi Forse stavo per morire Aiuto Ok Adesso arrivano i tori I tori Cielo ma che fortuna oh c'è boh anche aiuto che nervoso non va, no non va il tumor e come andavo a prendere quelli che cavolo cos'è questa cosa ma che cavolo ma cosa è questa cosa io sono sorpresa ma che è sta roba ma che diamine ok ma che è sta cosa invece grazie a tutti per essere venuti e scusate l'attesa pronti a rilasciarvi e travolgere dal mio ritmo inebriante? il mio gran finale farà tremare le fondamenta dell'universo e il pubblico andrà in visibilio è l'ora del numero di Bowser via oh cielo oh 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 sembrano le partite di calcio mi spaventa un pochino devo cliccare quel oh cielo ah sì mi ricorda molto Donkey Kong non so perché non so che cosa mi ricorda Donkey Kong però oddio però bella sta boss fight no oh bellissima aiuto adesso sto qua si è a essere tipo oh cielo ok posso oh cielo eh vabbè poi non ce la facciamo in nessun caso non è che questa è l'ultima mi pare che succede dio santissimo allora devo prima far fuori le mani ooo le eh quella non si gira però quello è il problema oh attenzione oh ha un'altra fase attenzione attenzione oh bellissimo aspetta È infinita sta fase Olè Olè Ma no Ok ok Manca Madonna ma è la Quarta volta che lo copisco Ho 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 Maria Maria Sono stata troppo brava Ancora Oh ma non si Non si ferma Oh Oh Olè 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 No Olè Olè E niente Raga vive ancora Il tipetto Eh Aia Pure adesso Ma no Pure Mi sono Inciullata un po' No dai Olè Bene Uno Due Tre No Uno Due Tre Io se adesso muoio è finita male Uno Due Tre Uno No no è perfetta Uno Due Tre No Stronzo No Uno Due Tre Madonna Non ci posso credere Ok Aspetta Aspetta Che vediamo Oddio Sì ma io se adesso muoio sono fregata Fino al midollo Uno Due Tre Se l'abbiamo fatta Madonna ma quante facce aveva questo Ha perso il cervello Ragazzi Mamma mia ragazzi Ho veramente un sacco di Di fasi questo Ma tantissime Però molto bella questa boss fight Ma che cavolo Ok Basta È finita per te Bowser Grazie 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 Ok Sceme meraviglia Anzi Sceme supremo Attenzione È carico di Energia Vediamo Oh Li abbiamo presi tutti Allora Due Quattro Sei Sette Ok Ok Oh che carina la stellina Sono più felice di Vederci Che cosa è super Mario Galaxy Probabilmente Ok Quindi Secondo me è finita Proprio Bella sta foto No non mi ho fatto la foto Che peccato Che peccato Che è peccato Che è questa roba No Vabbè Bellissimo Cioè Guarda che Che roba Game design Prendiamoli tutti Prendiamoli tutti Non so quanto ho preso in totale Oh attenzione Tutto è bene Quel che finisce bene Ma si è finito Torna a trovarci No Così corto E' completato il gioco Ti meriti Una medaglia In tutto ne hai uno Il livello che non hai trovato Sono indicati con Nello schermo livelli Ok Perfetto Oh tornare qui mi ricorda Quando abbiamo iniziato Il nostro primo viaggio Abbiamo visitato Moltissimi posti E raccolto un sacco Di semi meraviglia Forse però ci sono Ancora di semi meraviglia E delle monete Fiore da dieci Da raccogliere In tal caso Sarebbe felicissimo Di continuare a cercarli Però Nella prossima puntata Noi faremo Il mondo speciale Con i livelli Più difficili Del gioco E io qua Non so come andrà a finire Ma vedremo Ciao